Sistemata la questione del MES direi che mi sembra opportuno iniziare a sistemare anche una volta per tutte una piccola questione di base che è la questione del debito. Vedete la fine ritorna, ma ritorna sempre e costantemente. Quando il ministro Giorgetti in audizione alla camera cercavano di chiedergli cose relative al MES, lui ha detto una cosa che può far discutere, cioè vale a dire, ha detto in realtà il nostro problema è il debito. È vero? Sì. È vero. Manca un piccolo pezzo però in modo tale da completare l'informazione. Formalmente vero. Al momento il nostro problema o uno dei nostri problemi principali è il debito, ma la frase corretta, se veramente avessimo voluto dirla tutta, dovrebbe essere il nostro problema è il debito, stante le condizioni attuali in cui ci troviamo e stante il set di regole in cui ci troviamo. Perché in altre condizioni il problema non è il debito. Il problema non è il debito per il Giappone, il problema non è il debito per la Gran Bretagna, il problema non è il debito per nessuno. Lo è all'interno di un set di regole o un set di situazioni che si sono create. Per esempio perché per gli Stati Uniti può essere un problema il debito? Perché loro si sono dati una regola tale per cui oltre a un certo livello in valore assoluto del debito ci vuole un voto del Parlamento per poterlo aumentare. Qualche volta il Parlamento non è della stessa maggioranza rispetto al Presidente e quindi per motivazioni politiche utilizza il livello del debito come arma per ottenere qualcosa, altrimenti non ti do il via libera ad aumentare il debito. Ma è una scelta. Non è un problema il debito perché ho tanti debiti, oddio, oddio. Il Giappone, famoso Giappone, 250% di debito pubblico. È un problema al suo debito? Non è un problema il suo debito. E perché non è un problema il debito del Giappone a 250% ed è un problema il nostro a 130% o a 140%? E perché potrebbe non essere un problema lo spread è basso il nostro debito a 140% mentre invece lo era a 110%? Perché può essere un problema, è stato un problema per la Spagna il debito quando era a 60%? Perché è stato un problema il debito pubblico dell'Irlanda quando era a 30%? Vogliamo raccontarla una volta per tutte bene la storia del debito pubblico e come funziona e perché è un problema per noi solo ed esclusivamente per il motivo per cui noi non abbiamo moneta propria? Perché altrimenti se non raccontiamo bene questa storia purtroppo stiamo dicendo delle cose formalmente vere ma che non aiutano a prendere delle decisioni corrette. Il nostro problema è il debito? Sì. Perché? Perché non abbiamo la nostra moneta? Prendiamo un paese normale, scegliete voi, Svizzera, Gran Bretagna, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, no, Repubblica Ceca, sì, Repubblica Ceca, Ungheria, prendiamo un paese normale, scegliete voi, diciamo la Gran Bretagna. Ha il debito pubblico la Gran Bretagna? Sì. È un problema il debito per la Gran Bretagna? No. Perché? Vediamo come funziona. prestate bene attenzione. Prendo un minibot. Questo rappresenta debito pubblico. Nel caso inglese si chiamano GILT. Il debito pubblico si chiama GILT. Non mi ricordo sinceramente l'origine del nome ma questo è. debito pubblico inglese. Quindi il debito pubblico inglese è fatto di tanti pezzi di carta che adesso sono materializzati quello che vuoi. In realtà fisicamente non esistono in mano ma se li facessero cartacei come li facevano in passato sarebbero tipo questi. Quindi questo è debito pubblico. C'è scritto, vabbè qui lo vedete al contrario, comunque c'è scritto buono del tesoro. Ok? Questa è la banconota. Stesso valore nominale. Ok? 50 euro. Loro saranno 50 sterline. Ok? Ci siamo? Comunque questo è debito e questo è banconota, denaro. Chi li stampa? Chi stampa il debito? Chi stampa la banconota? Ci possiamo arrivare? Ebbene sì, li stampa lo Stato. Nello specifico il debito lo stampa il tesoro. La banconota la stampa la banca centrale. La banca centrale è dello Stato. Per cui per lo Stato stampare debito o stampare banconota è la stessa cosa. Ci siamo? Non è che ci vuole più inchiostro per stampare questo rispetto a questo. Tenuto presente ovviamente che la stragrande maggioranza del denaro, così come tutti invece titoli di Stato, non hanno nemmeno bisogno dell'inchiostro. Perché viene accreditato sul tuo conto. Quando la banca centrale compra dei titoli di Stato, accredita sul conto corrente con un click. E quello è denaro creato. Ci siamo? Non è che mi sto inventando qualcosa io. Ve l'hanno spiegato mille volte, pur con un po' di fatica, gli stessi della banca centrale. Quindi non sto insegnando magia nera, non è una cosa del genere. È la normalità delle cose. La banca centrale crea il denaro dal nulla. Ci siamo? E il tesoro crea il BTP, quindi i titoli di debito, sempre parimenti dal nulla. Ok? Bene. Una volta arrivati a questo punto, quindi che per lo Stato è esattamente uguale stampare i titoli di debito per lo Stato normale, poi arriviamo allo Stato anormale, che è l'Italia o gli altri paesi dell'Eurozona. Una volta arrivato che è esattamente uguale per lo Stato stampare denaro o stampare debito, vediamo che cosa succede. Succede che il tesoro emette debito pubblico, quindi stampa titoli di debito, i risparmiatori lo comprano e quindi gli danno in cambio il denaro. Se non ci sono i risparmiatori, li stampa la banca centrale, prende, come è successo con i miliardi del quantitative easing, li stampa la banca centrale e li dà sempre al tesoro. Alla fine il procedimento è sempre quello. Il tesoro stampa un titolo di debito e in cambio riceve il denaro. Dopodiché lo spende. Più facile così veramente sto, mi è impossibile. Quindi se ci sono i risparmiatori che investono i loro risparmi nei titoli di Stato è una bella cosa, se non ci sono arriva la banca centrale ed è lo stesso. Perché lo fanno i risparmiatori? I risparmiatori lo fanno perché è ovvio, il titolo di Stato normalmente paga degli interessi, è congegnato in modo tale da raccogliere il risparmio e paga degli interessi che sono calibrati all'inflazione. Nel mondo normale, a meno che uno non si metta a fare le speculazioni con titoli a tasso fisso, a lunga distanza, cose di questo tipo che di solito finiscono sempre male. Ma in condizioni normali il titolo di Stato serve a tutelare il risparmio dei cittadini. Perché se ci fossero soltanto le banconote, che cosa fanno i cittadini? Prendono le banconote, non c'è altro, se le mettono sotto il materasso, se le mettono in cassaforte, dove cavolo vogliono. Ma il risparmio che è necessario che i cittadini abbiano viene eroso dall'inflazione. Quindi se c'è l'inflazione, vale a dire se c'è un aumento dei prezzi, i titoli, i soldi, quindi le banconote che rimangono nelle disponibilità dei cittadini, perdono valore reale. Con questo ci compravo 50 pesche, se c'è dopo l'inflazione con questo ce ne compro 40. E allora cosa succede? Succede che per raccogliere il risparmio dei cittadini e tutelare il loro potere d'acquisto e invogliarli quindi anche ad avere del risparmio, perché è giusto che i cittadini abbiano risparmio, in modo tale da poter avere la possibilità di far fronte ai futuri problemi. Quindi è normale che i cittadini abbiano risparmio, e anzi è utile che i cittadini abbiano risparmio. Se c'è una necessità, se non bisogna cambiare la macchina, se si guasta qualcosa, devono avere da parte dei soldini in modo tale da potersi permettere di venirne fuori dal momento di difficoltà. Quindi il cittadino, la Repubblica incentiva il risparmio, la Repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme, è scritto anche nelle Costituzioni, quindi evidentemente è importante notare che anche nella nostra c'è scritto che è una tutela assoluta. La Repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme, quindi serve che i cittadini abbiano risparmio. Per cui cosa succede? Per far sì che abbiano risparmio, se non ci fosse il titolo di Stato e ci fossero solo i contanti, tutti spenderebbero subito tutto, perché dice, tanto poi se io li tengo così, perdono valore, quindi tanto vale che io spenda tutto. All'inizio può anche andare bene, ma poi finisce male. Allora invece cosa succede? Bisogna incentivare il risparmio. Quindi lo Stato prende, stampa dei titoli di Stato, il cittadino in cambio gli dà i soldi, lo Stato se li riprende, il cittadino si trova quindi il titolo di Stato in mano, che a fine anno vale un po' di meno perché c'è l'inflazione, ma riceve in cambio degli interessi pari all'inflazione, quindi il cittadino non ci perde, e lo Stato non ci perde, perché tanto è sempre la stessa cosa, cioè lo Stato riceve i soldi, ma dall'altra parte paga gli interessi al cittadino. Tutto uguale. Quando arriverà a scadenza il titolo di Stato, lo Stato ridà i soldi al cittadino, si riprende il suo titolo di Stato, in quel momento il valore del titolo di Stato è un pochettino abbassato, quindi l'ha pagato di meno perché c'è stata l'inflazione, ma lui ci ha dato in cambio il tasso di interesse e quindi tutte e due sono in pareggio. Funziona così. La funzione del benedetto titolo di Stato e del motivo per cui invece di stampare soldi e basta, gli Stati hanno deciso di utilizzare il sistema del titolo di Stato è principalmente a mia conoscenza dato dall'incentivo al risparmio perché altrimenti non funzionerebbe. Mi state seguendo? Quindi quanto sia il quantitativo di debito è quanto è il risparmio del cittadino in uno Stato normale. Qualunque sia il quantitativo 200%, 300%, 500% cambia qualcosa. Non cambia nulla. Tasso di inflazione dell'1%, questo 500% del debito su PIL cala di valore dell'1% e dall'altra parte lo Stato riconosce un 1% di interessi. È di più? È di meno? No, nessuno ci perde, nessuno ci guadagna qualunque sia il quantitativo del debito. Motivo per cui il Giappone ha 250% ma se ne frega del 250% di debito potrebbe avere il 300%, potrebbe avere il 400% non cambia nulla. Ma potrebbe mai lo Stato andare in crisi perché quando scade il titolo di Stato il cittadino quindi che vuole avere indietro a scadenza del titolo di Stato i suoi soldi potrebbe non averne abbastanza per restituirli. No, perché li stampa lui. Quindi arriva a scadenza il titolo di Stato lo Stato ne emette altri se in quel momento i cittadini non gli dovessero o non volessero dargli altri risparmi in modo tale da rimborsare i titoli di Stato precedenti interviene la Banca Centrale e stampa i soldi necessari per la restituzione del credito del cittadino nei confronti dello Stato. Può rimanere senza soldi? No, li stampa lui. non c'è nessuna possibilità di default in natura di un debito nella stessa valuta. Può essere sì, c'è stato il caso della Russia, dell'Equadro sono scelte cioè a un certo punto lo Stato sceglie per motivi suoi di non rimborsare il debito neanche se in valuta. Perché vuol far meno inflazione? Perché gli stanno antipatici quelli che hanno in quel momento il titolo di Stato può succedere? Sì, in teoria può succedere ma è una scelta non è certo una forzatura uno Stato non potrà mai non se vuole farlo non potrà mai non onorare un debito espresso nella propria valuta perché stampa lui i soldi da restituire. Ci siamo? Ok? Una volta che è chiaro questo capiamo che il titolo per un paese normale il debito non è un problema anzi è indice del risparmio privato non crea problemi né se è grosso né se è piccolo né se è basso né se è alto non crea problemi. Ok? Ora viviamo purtroppo al triste caso dei paesi dell'Eurozona o dei paesi che si indebitano in una moneta straniera per vari motivi motivo per cui insomma io non suggerirei ovviamente a milei di turno di indebitarsi in dollari o qualcosa del genere. che cosa succede quando l'Italia stampa i suoi BTP raccoglie risparmi dei cittadini esattamente come prima ma e qui arriva il ma se per ipotesi i cittadini non volessero o non avessero soldi per sottoscrivere i nuovi titoli di Stato a quel punto chi glieli dà? Dovrebbe dargli la Banca Centrale peccato che la Banca Centrale potrebbe non aver voglia di darglieli. Vi ricordate durante la pandemia la signora Lagarde quando era arrivata stava partendo lo spread ci credo altro che crisi c'era un paese chiuso tirava giù la serranda chiudiamo lockdown poi ci abbracceremo con più calore ci abbracceremo con più calore domani ok c'era una crisi quella partiva lo spread arriva lei tutta garula in favore di telecamera e dice ma la Banca Centrale non è qui per chiudere lo spread ecco che magicamente se la Banca Centrale non vuole sottoscrivere e garantire quindi i titoli di debito di uno Stato ecco che lo Stato va in crisi ma ve l'hanno forse detta questo piccolo dettaglino quando siamo entrati nell'euro no perché quasi tutti sempre si concentrano sulle questioni relative alla moneta forte alla moneta debole sì importante ma io ero partito quando io avevo iniziato la mia critica all'euro ero partito da questo semplice concetto che nel momento stesso in cui la Banca Centrale smette di garantire per il debito ed era successo con la Grecia e da lì avevo aperto gli occhi me l'ho tolto le fette di prosciutto che avevo che avevo sugli occhi mi sono lievemente reso conto che il nostro debito non piccolo non era garantito da nessuno non è una questioncina da poco per cui che cosa succede succede che il nostro debito beh ci sono dei momenti dove ovviamente non è un problema cioè tipo adesso c'è un'inflazione alta noi abbiamo un enorme risparmio i cittadini italiani non sono esattamente contenti i cittadini italiani ovviamente di vedersi che hanno da parte dei soldi liquidi sul conto corrente di vederseli consumare dall'inflazione per cui molto volentieri ricomprano dei titoli di Stato c'è un interesse buono 4% 4,5% addirittura così questo tipo e quindi figura tutti in fila alla banca a comprare BTP valore così questo tipo ma è evidente che quando c'era invece lo scenario che ovviamente tanto magari gradirebbe il ministro dell'economia protempore vale a dire i tassi molto più bassi beh ma se i tassi sono molto più bassi cioè vale a dire se i tassi sono a zero i cittadini non li comprano più titoli di Stato perché diciamo perché io devo prendere e mettere i miei risparmi a zero piuttosto me li tengo sotto il materasso allora lì deve intervenire la banca centrale e deve comprarli lei tralascio qual è la causa qual è l'effetto cioè se la causa dei tassi a zero è la banca centrale che compra o meno però situazione è quella cioè al momento noi non abbiamo nessun problema cioè noi tutti i BTP che noi emettiamo ci sarà sicuramente sufficienti risparmiatori per poterli per poterli comprare e quindi con grande diciamo disdoro di chi invece ci voleva in ginocchio ecco perché c'è un sacco di gente che diceva adesso noi li vedremo in ginocchio li vedremo piangere davanti a noi perché comincerà a salire lo spread c'è il governo dei sovranisti e così via cose già viste peccato non era il momento giusto i cittadini i nostri risparmiatori compravano tutto quello che c'era da comprare comprano tutto quello che c'era da comprare e quindi tanti saluti a chi sperava di vederci in ginocchio però il meccanismo è quello cioè vale a dire se per un caso quando arriva scadenza il titolo di Stato il cittadino non vuole perché pensa che gli interessi non siano interessanti diciamo così non vuole sottoscriverli e dove li trova lo Stato i soldi? dove? dovrebbe intervenire la Banca Centrale come nel resto del mondo in modo tale da evitare che sia pericoloso considerato pericoloso il debito ma mettiamo che non interviene hai capito perché è un problema il debito? eh sì è un cazzo di problema il debito ma è un problema solo se tu in questo momento sei nell'euro vediamo anche l'altro aspetto perché forse è quello che più preoccupa il ministro Giorgetti vale a dire io ho un grosso debito questo grosso debito come abbiamo detto in condizioni normali pareggia l'inflazione vediamo cosa succede però in un paese dove le regole dell'Unione Europea mettono sotto accusa il deficit ci sono due parametri nelle regole dell'Unione Europea anche in quelle nuove appena appena sottoscritte il debito e il deficit il debito non deve essere più alto di un tot livello ma se è più alto di un tot livello se anche da 140 passa a 130 o a 120 non cambia niente sei sempre più alto di un tot livello e quindi non va bene non importa se la tua traiettoria del debito scende in ogni caso tu sei sempre superiore a un certo livello e quindi devi fare determinate cose perché voi capite che l'alta inflazione è erode il debito se la massa di debito 110 120% 130% del PIL in caso di alta inflazione il PIL sale anche a parità di produzione perché il PIL è nominale e dall'altra parte lo stock di debito è fisso non è che si rivaluta e quindi scende quello anche che è successo recentemente c'è stata una forte inflazione guarda caso il debito è sceso piccolo problema se c'è un'inflazione alta ovviamente per pagare gli interessi richiesti dal debito al di là di quelli diciamo già già emessi e i cittadini chiedono un tasso di interesse un pochettino più alto quindi aumenta la spesa per interessi in condizioni normali non è un problema abbiamo detto perché se io ho mille di debito devo pagare cento di interessi questi cento di interessi sono esattamente uguali al calo di valore del debito a causa dell'inflazione quindi si pareggiano però nel set di regola dell'unione europea questi cento di interessi che si pagano sul debito vanno nel deficit quindi se io devo pagare se io prima pagavo 50 di interessi sul debito e adesso ne pago 100 perché gli interessi sono aumentati ecco che il mio deficit aumenta poi io posso anche dire perché il mio saldo primario cioè vale a dire quello che io incasso o guadagno tolti gli interessi sul debito che non dovrebbero centrare è positivo quindi vale a dire io in realtà sto facendo delle politiche restrittive perché io sto incassando di più dalle mie tasse rispetto a quello che spendo quindi la mia enorme spesa pubblica per l'Italia è sempre stata inferiore rispetto a quella di tutti gli altri paesi perché noi eravamo in avanzo primario e gli altri no quindi il nostro avanzo primario se viene mangiato se semplicemente non viene considerato dalle regole perché si guarda il deficit nudo e crudo e allora ecco che in questo caso il debito anche qui diventa un cazzo di problema perché perché se il debito è molto alto si devono pagare tanti interessi il rapporto debito non cambia quindi ti deve far ricordare che non sarebbe un problema per un paese normale ma per un paese dove le regole dicono che il deficit deve rimanere così tu paghi gli interessi sul debito e se vuoi tenere il deficit fisso devi tagliare il resto e quindi in presenza di alti interessi e anche di alta inflazione condizione che in teoria sarebbe ideale anche per ridurlo il debito posto che lo si voglia ridurre perché abbiamo visto che non è un problema ma in realtà diventa un grosso problema di finanza pubblica perché se io devo pagare gli interessi del debito e questi interessi mi vanno nel deficit e io non posso andare oltre un certo livello di deficit il risultato è che devo tagliare le altre spese o aumentare le tasse quindi il ministro dell'economia già si vede proiettato nel futuro dove deve tagliare cose pensioni oppure alzare le tasse perché se no altrimenti non sta dentro nel parametro ora in questo quadretto abbiamo disattivato una cosa che era pericolosissima perché il messa cosa serviva serviva che nel momento stesso in cui uno grazie a questa situazione andava sott'acqua ecco che arrivava la mela di biancaneve e ti dicevano prendi il mess a quel punto tutti i tuoi problemi sono risolti peccato che se n'è andata anche la tua democrazia quindi è come dire hai dei problemi fatti invadere da me vedrai che poi va benissimo con il panzer che arrivano dopodiché basta porsi i problemi ci penso io ecco il mess fortunatamente l'abbiamo tolto di torno ma rimane il piccolo problema dell'incertezza cos'è l'arma principale beh l'arma principale è che se saltiamo noi saltano anche gli altri di base l'arma ulteriore dovrebbe essere mi ricatti e vabbè se io mi trovo con l'acqua alla gola sai che c'è tanti saluti e mi stampo i miei mini bot invece dei soldi che non mi dà la banca centrale ce ne sono di armi però capite che non sono semplicissime per tutta una serie di motivi primo fra tutti che in troppi questa cosa non l'hanno ancora capita alleati di governo parlamentari cittadini questa cosa non l'avete ancora capita io provo a spiegarvela avrei bisogno di avere una prima serata a rete unificate così magari un po' di gente forse la capisce non ce l'avrò mai cominciamo a spiegarla così e cominciamo a far girare questo perché a un certo punto Borghi dice che la moneta ha un problema per questo perché noi in questo momento abbiamo il debito pubblico che diventa un problema ma non dovrebbe esserlo ed è una cosa che ci mette in pericolo la nostra spesa per i servizi per la sanità per tutto perché ovviamente gli interessi sul debito pesano su quello che possiamo o non possiamo spendere nel momento stesso in cui le regole dicono che il tuo deficit conta non il tuo saldo primario ma il tuo deficit conta e dall'altra parte addirittura andiamo in ulteriore rischio perché se per un qualsiasi motivo e l'abbiamo già visto con la prima crisi dello spread i cittadini si spaventano e non vogliono comprare i titoli di Stato ecco che a un certo punto lo Stato si trova nei pasticci cos'è l'altra arma? beh l'altra arma ovviamente è che noi siamo talmente grandi che come dire la Grecia ha tenuto sotto scacco il mondo intero per tanti anni una cosa come l'Italia boom non potrebbe mai saltare da sola però capite che non è vita questa cioè è la vita del del talebano con la cintura esplosiva cioè nel senso guarda che se mi dai fastidio allora mi faccio saltare allora vediamo l'importante è che queste cose si capiscano se no altrimenti quello che vedo sotto eh ma il mille proroghe soltanto il limite di reddito per il super bonus ma questo ma quest'altro sì perché perché tu non hai in questo momento i limiti normali di spese i tuoi limiti normali di spesa dovrebbero essere il saldo commerciale l'inflazione ve l'ho spiegato cento volte perché uno dice ma allora stampiamo quanto vogliamo e poi le carrettate di soldi per comprare il caffè il Venezuela lo Zimbabwe e altre scemenze di quel tipo lì no noi siamo l'Italia non siamo il Venezuela non siamo lo Zimbabwe i nostri limiti per poter stampare soldi sono l'inflazione e sono il saldo commerciale finché noi esportiamo di più di quello che importiamo significa che noi possiamo tranquillamente stampare più soldi perché significa che in ogni caso sono più i soldi che entrano cioè la moneta estera che entra nella nostra economia rispetto a quella che esce quindi noi potremmo tranquillamente spendere di più chiuderla col super bonus evitare di dover mettere quelli ma cosa credete ma che il politico questo tipo si diverte a dire che uno che pur diciamo è vittima di una cazzata fatta da quello che viene prima non gliela risolve così come le accise sulla benzina ma ci divertiamo a non togliere le accise come come magari si vorrebbe no similare no però devi stare dentro quei limiti lì e se non stai dentro quei limiti lì da qualche altra parte se ne salta fuori quindi cosa vuoi fare ah beh se voglio spendere di più per qualcosa devo togliere da un'altra parte dato che spendere di più per qualcosa e togliere dall'altra parte di solito è un ottimo sistema per far incazzare tutti a quel punto uno cerca di venirne fuori con piccoli spedienti mettiamo l'ISEE e così questo tipo e vengono fuori queste poracciate con cui i governi italiani si devono dibattere da un sacco di tempo fatti salvi i momenti del lockdown dove 50 miliardi 100 miliardi 100 miliardi perché guarda caso anche se uno stato era chiuso e se si spendevano 50 100 miliardi in ristori ristori 2 aiuti 1 aiuti 2 così questo tipo i tassi di interesse non sotto 0 perché perché la banca centrale comprava tutti i titoli esattamente e non è un regalo dell'Europa come tanti tante cretinate vengono fare è stato l'unico momento dove l'Europa faceva quello che gli altri fanno come normalità quindi quando uno dice abbiamo ricevuto i miliardi dall'Europa con la banca centrale dice una cretinata è stato il momento in cui la banca centrale ha fatto il suo dovere e quando la banca centrale non interviene a difesa del debito degli stati che controlla che non fa il suo dovere sentite io più chiaro di così veramente non riesco ad essere quindi ha ragione Giorgetti quando dice che in questo momento il debito è il nostro problema sì va aggiunto giusto quel piccolo particolare è il nostro problema il debito pubblico perché abbiamo una banca centrale non nostra perché il nostro debito è virtualmente un debito in moneta estera e quindi non abbiamo il controllo della moneta con cui è denominato il nostro il nostro debito e perché è una serie di regole che sono anche quelle poveretto mi ci metto anche in teoria nella sua testa cioè vale a dire non è che se io vado là e dico che voglio cambiare tutto poi questi mi dicono di sì cioè non c'è nessuna speranza arrivo a un certo punto dove l'unica mia scelta è schifo o schifo meno cucchiaino allora a un certo punto dico schifo meno cucchiaino so boh forse magari io avrei magari provato a vedere cosa succedeva a far saltare tutto anche lì però di base si tornava almeno momentaneamente alle regole di prima quindi non si risolveva il problema non è che ottenevamo che gli altri facevano quello che piaceva a noi quindi da quel lato lì quel set di regole rende importante il deficit e quindi gli interessi del debito contano il fatto di non avere una banca centrale che garantisce il debito fa diventare importante anche la questione del debito come valore assoluto più di così non lo so così almeno lo sapete perché quando uno dice eh ma che cosa stai parlando perché parli della moneta ecco adesso forse una volta per tutte capite perché è importante quando io parlo della moneta poi c'è tutto il discorso della moneta più forte rispetto allo Stato tutto vero ma in questo momento per quello che riguarda il debito la questione della moneta è questa io giuro più facile di così non so spiegarvelo magari che ne so ci dormo sopra e mi verrà in mente in modo ancora più facile di spiegarvelo però la struttura è questa chiaro? spero che sia chiaro per tutti fate girare così almeno cogliamo l'occasione del mess che non c'è più fortunatamente per riuscire a parlare ancora delle basi grazie